Asta la vista ragazzi, sono sempre io, TheGamerT800, ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto altre tre missioni parallele, sempre nella saga degli androidi. Siamo andati a completarle ragazzi, tranquillamente, tutte e tre, grado Z, stiamo sbloccando sempre abiti, capsule, frammenti, poi se ci sono anche i pattuglatori temporali presenti nella mappa mentre stiamo combattendo, sfidiamo anche loro e ci prendiamo appunto tutti gli stemmi leggendari, gli stemmi di Mestre Zadane, tutti quei tipi là, che vendendoli poi ragazzi ci facciamo un casino di soldi. Per il momento non voglio andare a vendere ragazzi tutte quelle roba che abbiamo perché faremmo un casino veramente di credit, di zeni. Per il momento voglio lasciarli stare, voglio lasciarli aumentare un po', poi andremo a fare tutto un episodio dedicato a comprare tantissima roba. Oggi ragazzi voglio cambiare un po', visto che ho collezionato le sfere del drago, mentre non registravo dopo l'ultimo episodio che avete visto delle missioni parallele, mi sono messo a fare vecchie missioni parallele dove le trovo sempre alle sfere del drago e ragazzi le abbiamo di nuovo collezionate. Penso che non ci siano altri personaggi da sbloccare con le sfere del drago, quindi andremo ad esprimere un altro tipo di desiderio oggi. Quindi andiamo subito ragazzi al piedistallo delle sfere del drago che è proprio qui vicino, meno male che è qui vicino. Quindi ci andiamo qua. Allora ragazzi andiamo al piedistallo delle sfere del drago, facciamo esamina. Hai sette sfere del drago, vuoi evocare Sharon? Sì, ovviamente ragazzi siamo qui per quello, quindi non possiamo dire no. Allora, quindi le sette sfere ragazzi le ho collezionate mentre non registro, perché se non se le facessi mentre registro sarebbe un casino, ci vorrebbero veramente una ventina di episodi almeno, perché non sempre ce le danno. E voi sicuramente lo sapete prima di me sta cosa. Allora. Sta caricando ragazzi, adesso apparirà il drago. Ecco qua il nostro drago che spunta fuori, tutto fiero. Allora. Eccolo qua. Siamo pronti per esprimere il desiderio, allora. Forza, dimmi cosa desideri. Allora ragazzi, abbiamo... Voglio dei soldi, i soldi non ci servono perché vendendo tutti quegli sistemi leggendari e cose di Mr. Satan ne avremo un casino. Voglio un oggetto raro, per il momento non lo so, sono un po' titubante. Voglio un nuovo abito, aspettiamo, voglio diventare più forte, voglio crescere, voglio un nuovo attacco supremo, voglio un nuovo attacco speciale, voglio una seconda possibilità, voglio ottenere una bellezza mozzafiato, voglio delle medaglie, voglio altri costumi, voglio un altro attacco supremo, un altro attacco speciale, voglio riempirmi la pancia. Qui ci darà il cibo sicuramente. Qui è attacco speciale, attacco supremo, costumi, medaglie non mi servono per il momento. Quello che mi fa strano ragazzi è voglio una seconda possibilità. Cioè, non riesco a capire cos'è questa seconda possibilità. Io ci cliccherei, quindi farei. Voglio una seconda possibilità. Devo completare la richiesta? Sì, un desiderio facile da risaudire. Ok, è fallo allora, se è facile. Ora puoi ripristinare e riassegnare i punti attributi distribuiti. Sì ragazzi, è buonissima sta cosa, quindi ok, ho risaudito il tuo desiderio. Ok, quindi vai in pace, tranquillo Sharon, grazie dell'aiuto. Quindi ragazzi, possiamo ridistribuire i punti attributi. Quindi la seconda possibilità era praticamente riferita al fatto che possiamo riassegnare i punti attributi. Quindi una cosa buonissima, visto che io non li ho messi proprio bene. Quelli possiamo riassegnare, rimodificare. Ok, adesso andremo a vedere insieme ragazzi come fare, come riassegnarli. Vediamo un po'. Allora. Allora ragazzi, facciamo così. Ci mettiamo qui. Facciamo. Personalizza. Migliori attributi. Eccoli qua ragazzi, i punti attributi sono tutti qui sopra. 343 addirittura punti attributi, quindi li dobbiamo distribuire adesso. Lo facciamo assieme. Visto che all'inizio magari non l'ho fatto. Allora, ragazzi, io farei in vigore. Iniziamo mettendo un casino di vigore. Almeno un 50 metterei. Poi la salute anche una cinquantina metterei. Poi vediamo come distribuirli meglio dopo. Attacchi di base. Sì. Metterei un 30. Supercolpi dell'aura ragazzi, metterei un casino. Metterei, vediamo, aura metterei anche qui un 50. Vigore lo metterei ancora. Metterei così ragazzi. Supercolpi. Qui alzerei tantissimo. Un 70. Qui alzerei ancora. Salute. Sì. Ok. Qui metterei ancora un po'. E qui, anzi, qui metterei un in più. E qui, ragazzi, vigore tantissimo. Quindi, conferma. Sì, ragazzi. E a vigore abbiamo tantissimo. Il più alto di tutti i valori. Quindi, adesso dovremmo essere molto molto potenti. Ok. Quindi, ragazzi, adesso vi farei una cosa. Cambierei gli abiti con quelli di personalizza. Cambio equipaggiamento. E metterei quelli di numero 16, ovviamente. Eccoli qua. Che da tanto che non li mettiamo. Eccolo qua, ragazzi, il nostro personaggio. Mamma mia. Mamma mia, che bello così. Oh, tutto un colore, diciamo. Tutto il verde. Ok. Quindi, ragazzi, ecco che cosa serviva. Serviva a fare proprio questa cosa qua. Quindi, niente, ragazzi. Questo episodio lo volevo dedicare solo a questo... A questo desiderio. Non volevo portarvi altro in questo episodio. Non voglio farlo durare poco apposta. Così, almeno, lo vedete un po' tutti. Perché se dura poco, magari lo vedete tutti. Almeno, spero sia così. Quindi, volevo solo farvi vedere, ragazzi. Questo... Avevo le sfere. Volevo esprimere il desiderio. Siamo andati a esprimerlo assieme. Come facciamo sempre. Visto che anche la voce di sbloccare un nuovo personaggio non c'è più. Quindi, ragazzi, tutti i personaggi da poter sbloccare con le sfere del drago sono tutti praticamente sbloccati. Non ce ne sono più da sbloccare con le sfere. Quindi, benissimo così. Buono a sapersi. Quindi, ragazzi, niente. Video cortissimo oggi. Ve l'ho voluto portare così. Mi andava di farlo. Quindi, ragazzi, niente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like. Condividete. Iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!